Grazie per l'aiuto, è un piacere essere qui. Siete bravissimi, la pizza era squisita, la pizza era magnifica, buonissima e il mondo per presentarla in tavola è stato ottimo, complimenti. Grazie per l'aiuto. Il pranzo è stato un pranzo, l'ospite è veramente eccezionale, nel senso dell'eccezione, capita una volta nella vita. Ha lanciato un segnale importantissimo, inaspettato e ha portato all'attenzione di tutti. Il problema molto grave di cosa possono fare questi ragazzi, il punto è che questi ragazzi possono fare quasi tutto. L'importante è impegnarsi per farglielo fare, nessuno si impegna. L'ingriente segreto dell'articolo 1 sarà una burrata campana fatta su un territorio sequestrato alla Camorra, con chiaramente gli allevamenti relativi. Io l'ho assaggiata e ragazzi continuiamo a sequestrare tutto alla mafia della Camorra, perché una volta sequestrata loro la roba viene buonissima. Da madre, stupendo, bellissimo, perché abbiamo visto i cambiamenti di Christian e proprio è stato radicale. Per Christian ci è voluto un pochino di tempo, però è molto contento.